Per una ragione, e la ragione magari è il ragù. Sì! Aia! E ora fai un presto, io prendo la straccia e pulito perché il mamma ha già fatto, capite? Signora, io sono Serial Kill! Ma Serial Kill, io sono scostumato! Uè, fai un presto perché altrimenti non vorrei essere! Subito! Ofo Serial Kill! Signora, la straccia dov'è? Alla bascia!